Io chiamo sul palco Azzurra D'Aurelio, medico-chirurgo specializzata in medicina interna, diplomata in oncografia clinica SIUM, medico di medicina generale presso l'Ausl di Pescara, autrice di articoli e pubblicazioni e partecipazione a molti congressi. Allora, Azzurra ci parlerà di uno studio clinico osservazionale sull'alterata glicazione e sulla terapia antiglicante. A te la parola Azzurra. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio pubblicamente il dottor Mastrodonato per aver agevolato e supportato la mia presenza qui oggi. Vi racconto la mia esperienza come medico di famiglia a Pescara. Porto qui un piccolo studio osservazionale svolto negli ultimi settimane nel mio studio di medicina di base a Pescara dove ho osservato come i miei pazienti clinicamente affatti da sindrome metabolica, quindi quelli che chiamo infiammati sempre, che apparentemente sono dei gran mangiatori ma poi in realtà li vedo sempre malnutriti agli esami di laboratorio. Soprattutto li vedo malnutriti rispetto a un'indagine di routine che faccio sempre che l'elettroforesi proteica in quanto ritengo che la quantità di proteine totali circolanti sia un indicatore di benessere e di salute dei miei pazienti. Pertanto ho notato negli ultimi mesi soprattutto post pandemici dove mi è stato dato di lavorare un po' più con calma questa correlazione tra pazienti con fattori di rischio cardiovascolari e che agli esami ematochimici mostravano una sensibile deflessione delle proteine totali e l'elettroforesi seroprotaica quindi una deflessione dell'albumina in termini di concentrazione. Giustamente tutti noi sappiamo quanto la sarcopenia è stata descritta negli anni come la risultante di tutte queste vie metaboliche e di tutte queste possibilità di arrivare a trovare un paziente sarcopenico perché coinvolto in tutte queste situazioni. Partendo da qui e non prescindendo da qui fino ad oggi mi ero adoperata a supportare la sarcopenia dei miei pazienti prima di tutto escludendo dal punto di vista della proteinuria a tutte altre cause diciamo anche a livello di midollo eccetera. E poi il massimo del mio essere zelante era cercare di lavorare sull'intake proteico e quindi somministrare a questi pazienti sempre delle miscele aminocidiche per cercare di correggere questo bilancio. Ma c'è un prima e un dopo rispetto a questo nel senso che qualche tempo fa proprio chiacchierando con il mastrodonato e parlando di glicazione e ricordando come e quanto la glicazione abbia più target che non sono solo quelli dell'emoglobina non è solo l'emoglobina glicata l'indicatore che noi vediamo tutti i giorni sulle indagini dei nostri pazienti ma i bersagli sono tanti però per noi medici di famiglia nella routine e nella pratica spesso non tracciabili e non li possiamo guardare velocemente con semplicità. E allora mi sono chiesta forse tra tutte quelle vie potrebbe essere anche la glicazione la responsabile di quella elettroforesi che non mi convince tutti i giorni dei miei pazienti e quindi ho diciamo rincorso questa curiosità semplice e ho cercato di approcciarla in maniera diversa. Pertanto una veloce diciamo qualche slide sulla glicazione per ricordare questo processo che lo ricordiamo come che caramellizza diciamo le molecole alterando nella struttura e la funzione generando queste macromolecole biologiche che quindi funzionano male o non funzionano e glicotossine che sono sempre pro infiammatorie e quindi responsabili sempre di comorbidità. Nella biochimica ricordiamo che questa interazione tra il gruppo carbonilico di uno zucchero con un residuo amminico di una proteina principalmente ricca di lisina attraverso questi passaggi ci porta alla produzione degli AGES. Riconosce una prima parte diciamo reversibile, una fase iniziale che dipende dalla concentrazione degli zuccheri circolanti, poi una fase intermedia ancora reversibile che è quella della fissazione dell'ammina e l'ultima fase reversibile che non dipende tanto dalla concentrazione di glucosio ma dal tempo di esposizione di questa concentrazione. I complessi glicosilati sfuggono ai processi, al catabolismo e quindi non vengono pertanto distrutti dal protosoma e neanche vengono sempre escreti correttamente per cui risultano circolanti e danneggiano il sistema. Mi sono chiesta quindi se questi pazienti, questi 10 pazienti over 60 potevano essere osservati prima e dopo la somministrazione di un fito preparato antiglicante e ho portato qui per la prima volta la mia risposta e racconto quindi come questo fito preparato ha portato delle risposte sia dal punto di vista ovviamente dell'emoglobina glicosilata ma come sono cambiate le elettroforesi proteiche di questi pazienti. Molto velocemente questo fito preparato contempla la presenza della carnosina che è un dipeptide composto da betaleninestidina e che ha un'attività antiglicante in quanto ha un'efficacia paragonabile a quella di un farmaco noto antiglicante ma fa come da scudo quindi protegge queste molecole proteiche e lipidiche diciamo facendole sfuggire al prodotto di glicazione allo stesso tempo la carnosina quindi poi glicata che non è tossica viene facilmente escreta e eliminata dall'organismo. La vitamina B6 diciamo che è disponibile nei vari organi e tessuti è considerata antiglicante perché è un meccanismo di competizione per gli zuccheri riducianti che interferisce su diversi livelli sia in quello iniziale, quello intermadio e quello finale della glicazione. Direttamente e indirettamente quindi aiuta a limitare la quantità di glicocosina e a favorire il turnovere delle molecole glicate. La B1 al pari della B6 è idrosolubile e quindi deve essere regolarmente assunta. La sua carenza la ricordiamo nella condizione patologica del beriberi molto frequente negli alcolisti, negli anziani e nei malnutriti. Come cofattore enzimatico è utile nel metabolismo dei lipidi, dei carburati e delle proteine e ha un ruolo chiave in quanto inibisce gli effetti indotti dall'iperglicemia sulle cellule endoteliali, quindi non favorisce quel distrasse endoteliale da disfunzione endoteliale. La melissa che conosciamo più per i suoi effetti gabbergici come calmante e rilassante ha invece anche una capacità inibitoria nei confronti della pentosidina che è un altro AGES di quelli che noi tutti i giorni non possiamo tracciare nei nostri esami ma sappiamo che c'è e quindi si è visto in alcuni studi in vitro come comunque l'assunzione della melissa provoca un miglioramento in alcuni parametri correlati all'accumulo delle glicotossine come appunto quelle tutte di stiffness dell'endotelio. La bardana è un drenante epatobiliare diuretico che favorisce l'eliminazione delle tossine anche con la pelle e la salacia che è ipoglicemizzante, ipolemizzante, antiossidante, diciamo che ha più vie per modulare positivamente i target coinvolti nel metabolismo glucidico e lipidico come l'alfa glucosidasi, l'alipasi pancreatica, il trasportatore GLUT4, il fattore di trascrizione PPR alfa. Queste sono le mie semplici considerazioni, questi sono i miei dieci pazienti ai quali ho testato prima e dopo questi valori. purtroppo erano previsti anche il dosaggio dell'omocistena, della PCR e dell'insulinemia basale ma il laboratorio non è stato compliante sempre e puntualmente per tutti i pazienti prima e dopo pertanto ho deciso di non includerli perché non sarebbero stati significativi. Quindi senza dubbio nei miei dieci pazienti tutti i dieci hanno registrato un significativo miglioramento di questi valori dal punto di vista della glicata, della glicemia a digiuno, colesterolo totale HDL, trigliceridi e quindi proteine totali e percentuale di albuminemia su quelle proteine totali, tutte sensibilmente migliorate. Parliamo di 5 maschi e di 5 femmine, over 60, ipertesi in trattamento e non in terapia per altri fattori di rischio pur avendo dei valori a volte veramente fuori range. Vi voglio soltanto dire che su uno di questi pazienti ho notato inoltre un miglioramento dell'elettroforesi proteca e lui era un paziente in follow up presso l'ematologia per una sospetta MGUS e quindi aveva una precipitazione in banda gamma e dopo già due anni che era in follow up per questo, questa è la sua prima elettroforesi proteca completamente buona senza precipitazione in zona gamma. Quindi queste sono le mie risposte. Pertanto mi sono detta che forse la glicazione ci riguarda molto più da vicino di quello che crediamo e probabilmente non solo i diabetici devono controllare l'emoglobina glicata come indicatore del trend e delle loro iperglicemie perché in altre situazioni di prediabete e di non diabete forse l'elettroforesi proteca può essere uno strumento utile a basso costo per svelare un processo di glicazione misconosciuto. Pertanto questa piccola esperienza mi ha fatto riflettere circa l'uso di fitopreparati antiglicati come risorsa per contrastare fasi precliniche di malattie cardiovascolari. L'uso di fitopreparati sicuramente aiuta ad agevolare questo processo ma come abbiamo detto in questi giorni sicuramente la biochimica è solo un lato del triangolo e quindi per non tralasciare l'aspetto strutturale e quello psicofisico io per me per la fase strutturale prediligo le passeggiate in montagna in Abruzzo e per la fase psicomentale la lettura di poesie. Quindi l'ultima di Saba che leggevo qualche sera fa mi sentivo di condividerla con voi che cita quasi altra differenza tra un medico buono e uno cattivo che questa il primo è innamorato della guarigione e il secondo della malattia. Il cattivo medico non desidera guarire radicalmente l'ammalato ma solo calmare i sintomi che lo fanno soffrire e così il cliente grato del sollievo ritorna. Insomma come medico curante mi dovrei auspicare di essere un cattivo medico per avere sempre un flusso di pazienti ma sono certa che tutti noi qui presenti siamo innamorati della guarigione. Grazie dell'attenzione, grazie Zurra.